Dal 23 giugno per ogni mercoledì d'estate, Via Passeri, così come Via Belvedere e Piazzetta Antaldi, si chiudono al traffico e si aprono a serate all'insegna della ristorazione e del commercio all'aria aperta. Un esperimento testato nell'estate 2020 che quest'anno si rafforza dalla costituzione di un'associazione presentata sabato nel comune di Pesero denominata Centro Commerciale Naturale Via Passeri, associazione alla quale hanno aderito 18 attività assieme al Museo Nazionale Rossini. E' mercoledì tutti i commercianti, gli artigiani, i ristoratori della via esprimeranno tutta la loro eccellenza. I negozi saranno aperti, ci sarà la possibilità di visitare il Museo Rossini di sera, i ristoranti avranno uno spazio pedonale da dedicare all'inserimento di più tavoli per assistere all'animazione musicale, quindi verranno coinvolti dei gruppi musicali, ci sarà intrattenimento e si vivrà la via anche di sera in un giorno infrasettimanale che soprattutto d'estate vede un po' il centro generalmente un po' più abbandonato rispetto alla zona del mare. In questo caso invece faremo in modo che questa arteria principale della città diventi percorribile, vivibile, fruibile dai cittadini attraverso tutte le attività presenti. Si potrà fare shopping, si potrà mangiare all'aperto, si potrà ascoltare della musica, quindi viviamo la nostra città nel migliore dei modi e con l'apporto di tutti i commercianti e gli attori presenti nella via Passeri. Dopo un'estate passata scorsa a provare, a rodare questa festa di mercoledì dove abbiamo voluto sistemare della musica lungo la via, negozi aperti serali, strade chiusa e passaggio pedonale importante, si è preso in considerazione in questo periodo di aprirsi un'associazione. La nostra associazione è sulla base culturale, sociale e culturale, quindi partiamo dal presupposto che siamo all'interno di un sistema di via storica importante di Pesaro dove poi il finale della via è tra l'altro sul Teatro Rossini e in mezzo abbiamo questo museo e la biblioteca. Quindi due situazioni importanti che culturalmente ci hanno fatto valorizzare insomma anche le nostre attività. L'essersi costituiti in rete di impresa ha consentito alle attività coinvolte anche di partecipare a un bando regionale beneficiando così di alcuni fondi dedicati. Tutti i commercianti di via Passeri hanno partecipato a questo bando, hanno fatto sinergia e hanno creato rete di impresa e partecipando a questo bando regionale siamo entrati dentro la graduatoria quindi a breve arriveranno anche dei fondi per tutte quelle attività che nell'anno 2019 hanno avuto delle spese riguardanti la pandemia.